e paulicchi finalmente quel formaggino ha preso un topo ciccio non si stacca non si stacca ora se lo tiro fuori è un chilo e mezzo per me buona pesca finisce qua starò dietro alla telecamera a fare le riprese e basta attenzione c'è il monte in agguata non ti voglio nulla entri il mulinello come la fischia vuoi divertire un po' te? puoi sentire? è un'anguilla dai si tira tira ma non si può fermare la frizione? fermala che ti devo dire? occhio a schianto alla canna visto che oggi hai rotto tutto è vero avete ragione c'è un'anguilla ti voglio strappare il filo e poi tira tira tanto è mio noi facciamo il tag and release ci vanno in l'acqua? no veramente vedi? il salpatore di storione gli occhiali da vecchio al collo capito l'importante è di arrivarci oh sai ma dai 80 manca poco poi vedi come è tutto fighetto con queste felpe della pii hotspot design sponsorizzo soldi tanti soldi guarda i baffi chi ti sembra così? questo è un cretino mi sembra Paolini con la canna dal bocco sì è un cretino vai dagli la via se non c'è un papo in cui lavo un'acqua facevo una vasca sì sì ancora per vendicare il filo tagliato colpettino in avanti guarda mi sono anche sporcao tutto bel bocco stacca vai grande Paolichi grande Paolichi dici qualcosa di questa cattura l'ho presa con la sottiletta Kraft è quella morbida quella più alta perché se usi quella normale non mangia quella con i punti fragola l'amo è un 71 di misura della VNCX12 barrabis della ditta Kamakazu forse l'è un arpa no uno storione ha gallato ha gallato uno storione storione con la bolognese e il bigattino no ma guardate la mia bolognese ragazzi qui c'è scritto 77 eh quando ero un giatore forte forte Vannucchi quando si è andato in Coppa U è un pochino un pelo primo un anno prima sai quando si era famosi si beccava un po' di più c'era Vannucchi Abate Giovinco Marchesio giusto? sì sì Paolichis c'era anche Paolich e Monti Monti in difesa tutti i juventini solo Abate poi tutti i juventini oggi hai visto la faccina di vedere la partita di Juventus Fiorentina quale? c'è stata una partita? qualche giorno fa ma va? lo sai non lo sapevo lo giuro sulla mamma di sotto a casa mia però dai con l'Inter hai avuto una gioia gli si è dato una razzata ci penso io e Retino ragazzi no Retino le hai già troncate devi fare con la mano che c'hai fatto al naso? come ho fatto al naso? è così di suo? sì è così di mio si è simpatico l'ha già raccontata questa razzata bellissima quella lì è la clipettina vedi vipo vedi vipo vabbè dai possiamo essere contenti abbiamo preso un monte di pesce io ne prenderei uno anch'io però vai là vai là Monti vai là vedi come eccolo ecco vai vai là vedi anche tu vieni là è tuo non assomiglia? eh 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 vai via lanciamolo vieni è tuo vieni è tuo anche perché via questo si chiama Pinocchietto Pinocchietto volgarmente detto vieni la pedra carpa finalmente carpa 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 finalmente carpa lui io io Gianfra ancora niri sta prendendo dei gran niri eh la l'ha presa fuori no 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 ricordati che il guadino è rotto l'ha presa fuori no 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 si si l'hai presa sulla pinna no 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 guarda guarda diretti non la vedi la rotta ha rotta anche qui guarda guarda il guadino non c'è più io non ho per la notte ma non c'è più si è sboccolato no che uno poi dice ma lo fanno apposta no 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 ora ci fa petto al bene non c'è una cosa bella ci fa petto al bene guadino di nuova generazione carpa presa per una pinna è meravigliosa oi 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 è meravigliosa mole cicciona c'è uno dietro di fare linguacce è invidioso è invidioso ora non pesco così gliela faccio prendere poi non viene più grazie a tutti